Mister Indiani, alla fine di questo match, un match difficile ma lo sapevamo, ha cambiato ritmo la squadra nel momento in cui è passata in vantaggio, è scata un po' la scintilla. Sì, la partita abbiamo fatto tutta noi praticamente, credo che meritavamo la vittoria, abbiamo un cesso, credo, mezzo tiro in porta, che tra l'altro mi sembra deviato due volte, non va, non va. Continuo a ripetere, l'ho detto la settimana scorsa, con le quattro prestazioni che abbiamo fatto, quattro punti sono proprio il minimo, 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 minimo. In primo tempo l'Arezzo non era in forma, però c'è anche un po' di malasorte, cioè quel vento che non tira per il verso giusto, insomma. Sì, perché deviazioni come quelle che abbiamo subito nell'area avversaria ce ne state tantissime, però ora è un momento così, bisogna, il carcio però è questo, bisogna accettare questo momento, andare avanti con convinzione, sapendo che è un campionato difficilissimo, perché ovviamente è un campionato difficilissimo, però con enorme fiducia nei nostri mezzi. Mi sei chiesto però se dal punto di vista proprio della qualità di manovra oggi, anche del numero di occasioni, ecco, si aspettava qualcosa in più dalla squadra. Ma non è facile andare a squadra per stare, stando tutti dietro la linea della palla così, praticamente erano sempre dieci dietro la linea della palla, non è facile. Chiaro deve essere bravo nelle palle ferme, in cui ecco siamo stati molto meno bravi oggi, deve avere un pizzio di fortuna che non l'abbiamo avuto, però ce l'abbiamo fatta andare a vantaggio e subito dopo quella punizione regalata, doppia deviazione, dai. È un periodo che non va ecco da questo punto di vista, perché forse bastava mantenere il vantaggio per un pochissimo tempo, probabilmente ce la facevamo. Mi se ne ha cambiati nuove informazioni, le chiedo com'è nata questa decisione, anche un po' rischiosa sotto certi aspetti, visto che sono tanti i giocatori nell'undici titolare. Sì, però la scelta abbiamo fatto l'estate, praticamente non so non l'avete notato, era la squadra l'anno scorso, con Coccia Cosa e Chiosa. Era la squadra identica l'anno scorso, erano abituati a giocare insieme e credo sia anche una cosa molto bella, dar fiducia a tutti, abbiamo fiducia a tutti. Non succede di solito, è vero, è una cosa abbastanza strana, però noi siamo, direi, orgogliosi di questo fatto, di far partecipare tutti e di ritenere tutti all'altezza di giocare in questa campionata. Sì, la curva vi ha chiamato, vi ha chiamato sotto la curva praticamente, c'è stato l'applauso finale, non hanno mai smesso un minuto di incitare, questo è insomma comunque un bel segno. La curva è sempre ma al solito straordinaria, la curva, la curva è straordinaria. La migliora prestazione della serata, diciamo. La curva è sempre straordinaria e noi li ringraziamo infinitivamente sempre e comunque. È vero che certe difficoltà erano preventivabili, però insomma un punto in tre partite con la trasferta di Chiaveri alle porte. L'altro giorno ha detto che l'allenatore deve sempre essere psicologo, adesso forse ancora di più. No, 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 non c'entra nulla il punto in tre partite, noi abbiamo quattro punti in quattro partite, che dentro di noi pensiamo di averne meritate molto di più, perché assolutamente nessun problema, andiamo avanti.